La natura da sempre è protagonista, da sempre esercita un grande fascino sugli artisti, inizialmente come sfondo delle scene che vengono raffigurate e poi come vera e propria protagonista in quella che è stata definita la pittura di paesaggio appunto, cioè quel genere di pittura che raffigura uno scenario naturale non subordinato a quella che è la descrizione di una storia. E allora nei dipinti cominciano a comparire le marine, i paesaggi montani o campestri, le vedute urbane. Ogni paesaggio ha quindi la propria funzione comunicativa. C'è il paesaggio emozionale, quello che suscita sentimenti. C'è il paesaggio bizzarro e anomalo in un certo senso, quello che vuole essere una provocazione. C'è poi il paesaggio estetico che mostra, che mette in evidenza la propria bellezza. Nel corso del tempo la pittura di paesaggio ha sicuramente subito delle trasformazioni, delle evoluzioni. Ricordiamo i paesaggi impressionisti, il vedutismo, i paesaggi nel cubismo, nel futurismo, l'espressionismo, fino ad arrivare a delle forme più estreme di pittura di paesaggio, che troviamo appunto nell'arte contemporanea. In punti di vista, più volte abbiamo parlato di pittura di paesaggio, facendo riferimento soprattutto alle vedute o ai paesaggi campestri. Oggi vogliamo affrontare un altro aspetto della pittura di paesaggio, cioè quello che fa riferimento principalmente al mare, quindi le marine. Cercheremo di vedere come gli artisti vedono, sentono questo rapporto con il mare, con l'acqua. Che significato danno a questo elemento, il mare, l'acqua, che sicuramente è un elemento vitale. Un artista che realizza scene marine, ad esempio, è Gino di Prospero. Ciò che colpisce nei suoi dipinti principalmente è questo gioco cromatico e il modo in cui questi colori vengono stesi sulla tela, con vigore, con energia, mostrando i segni decisi delle pennellate, con delle linee spezzate, che danno un senso di dinamismo. E sono comunque dei toni caldi di colore che l'artista utilizza. Anche se l'elemento dominante è l'acqua, quindi l'azzurro, che è un colore freddo, un colore impersonale. L'artista riesce però ad affiancare a questo colore il rosso, il giallo, l'arancio, creando degli elementi e dei momenti che sull'immagine catturano l'attenzione. Attraverso queste tonalità l'atmosfera quindi si scalda, diventa un'atmosfera forse più familiare in un certo senso. Ora, se da una parte colpisce l'aspetto impressionistico delle opere di Gino di Prospero, dall'altra questo dinamismo dell'immagine, la forza cromatica, questo carattere, se vogliamo, anche più selvaggio dell'immagine, è un aspetto puramente emozionale. Quindi è la forza dell'espressionismo, la velocità del futurismo che viene fuori da queste opere. Principalmente nei soggetti in cui il mare è protagonista, per esempio scene di regate, oppure il mare in burrasca. Ma anche questo aspetto viene fuori anche quando il mare ha un ruolo più scenografico, di sfondo. Ad esempio nelle vedute, quando l'artista realizza un porticciolo. L'atmosfera che in generale ritroviamo nei dipinti di Gino di Prospero è un'atmosfera poetica, lirica, nonostante l'energia che l'artista riesce a sprigionare, a far venire fuori dalle sue immagini. Un'energia che risulta però al tempo stesso armonica, risulta elegante. In questo artista possiamo vedere un carattere figurativo ed astratto che si fondono, fino a dar vita ad una sperimentazione cromatica molto particolare e molto interessante. Gino di Prospero è figurativo per quanto riguarda il soggetto che sicuramente è ben individuabile nei dipinti ed è astratto proprio per quell'energia che vi imprime, un'energia appunto così astratta, istintiva. è astratto appunto nel modo in cui questo soggetto viene raffigurato. Ecco allora che troviamo delle pennellate rapide, però anche molto ampie che raccontano delle situazioni, che descrivono dei luoghi, che raffigurano quindi i pensieri, le idee, che sono pensieri e idee di gente comune. Quindi l'artista riesce in un certo senso a fissare sulla tela quella che è la quotidianità. Il dinamismo strutturale e compositivo attrae e allo stesso tempo diventa una sorta di distrazione per l'osservatore che si trova quasi rapito da queste molteplici suggestioni cromatiche. La composizione che è scomposta e ricomposta in questo susseguirsi di pennellate risulta non più solo la descrizione della realtà esterna, bensì risulta come un insieme di segni, di macchie che sono espressione di un sentimento più profondo, di un sentimento che l'artista si porta dentro. È proprio questo ritmo, la velocità del segno, la velocità del gesto pittorico che permette a Gino Di Prospero di realizzare delle immagini che sono immagini in movimento, sono stimolanti, in grado di cogliere tutte le vibrazioni che il colore offre. Il mare sicuramente con il suo movimento, con la sua forza, con le sue suggestioni, è il soggetto che forse rappresenta meglio questa necessità di libertà che l'artista riesce ad esprimere attraverso i suoi lavori. Quindi possiamo dire che Gino Di Prospero del paesaggio coglie tutta l'espressività che questo paesaggio gli offre, tutta la forza che questo paesaggio riesce ad offrirgli. Demo, invece, un altro artista, ne coglie anche la magia onirica, l'armonia delle onde, la delicatezza delle vele mosse dal vento. In questo artista la rapidità del gesto, il frastagliamento cromatico, diventano espressione, sì, di una carica, di un'energia creativa, ma al tempo stesso, proprio per il tipo di lavorazione che l'artista porta avanti, risultano più delicate. L'atmosfera, quindi, che traspare dai dipinti di Enrico Nicodemo, che è poi appunto in arte Demo, è un'atmosfera di abbandono, di rilassatezza. Intanto particolare è la scelta del formato per questi pannelli, un formato tondo, e quindi qui entra in gioco tutta la simbologia del cerchio. Il cerchio, per tradizione, sta ad indicare qualcosa che non ha né inizio né fine, è una delle forme primordiali, indica sicuramente il viaggio della mente verso l'infinito, verso l'irreale, verso l'ignoto. Ora, se associamo il cerchio ad un soggetto come il mare, come la marina, ebbene, questo diventa anche un desiderio di libertà, in un certo senso. Che cosa succede? Che Demo nel cerchio inventa il proprio mondo, una sorta di acquario infinito, nel quale poi si muovono liberamente queste forme, che sono forme reali ed immaginarie allo stesso tempo. Il mare si perde all'orizzonte, così come nel dipinto, che per la sua forma è rotondo, si perde l'intera immagine, non ci sono confini, quindi il mare va oltre la tevola, oltre il supporto, quindi esce da quello che è lo spazio del dipinto. Un formato che è rotondo, quindi non ha spigoli, e che quindi aiuta in un certo senso questa idea di libertà, non ci sono confini, quindi l'immagine che esce, esce, che continua oltre lo spazio del quadro. E questo porta ad un coinvolgimento totale dell'artista, ma anche di chi osserva, con l'opera. Ora, se noi consideriamo l'arte nel suo significato più sublime, questa è espressione estetica dell'interiorità umana, quindi è un linguaggio attraverso il quale ogni artista riesce a comunicare un proprio messaggio. Ebbene, la pittura di Desmaux rispecchia i pensieri, le sensazioni dell'artista, ciò che viene fuori dall'anima dell'artista. E che cosa viene fuori? Viene fuori un'esplosione di colori che vanno ad indicare tutta una serie di sensazioni, di emozioni che annientano ogni negatività, perché comunicano gioia, comunicano spensieratezza, comunicano vitalità. Del paesaggio marino Desmaux coglie il tremolio dell'acqua che viene increspata dal vento, coglie il movimento dei pesci sui fondali marini, le vele che si rincorrono, oppure che da sole sfidano le onde, sfidano la corrente. E in che modo l'artista coglie tutti questi aspetti? attraverso un cromatismo brillante, anche caldo, se vogliamo, che si associa con l'azzurro, con questo colore impersonale, così come abbiamo detto. c'è però una grande musicalità in queste composizioni, cioè come se le forme, le figure, si muovessero quasi in una danza, che è poi la danza dei colori che l'artista propone. E queste forme, queste figure, talvolta sono realistiche e talvolta sono più informali. Quando? Quando esprimono maggiormente le sensazioni, i sentimenti più intimi, più profondi. E sono opere sicuramente molto passionali, anche quando risultano apparentemente più fantastiche, più irreali, più astratte. Luce e colore sono comunque i punti di forza per questo artista. Cioè un'esplosione cromatica che riesce a far trasparire, a far venire fuori sensazioni, pensieri, stati d'animo, che risultano comunque legati sempre al quotidiano, alla realtà. Quindi ogni immagine è quasi una sorta di visione interiore dominata da quella che è la spontaneità, la semplicità delle forme. E una visione interiore che è dominata soprattutto da una libertà di espressione. anche un altro artista, Roberto Modenese, si avvicina al mare nei suoi lavori. Modenese è un pittore di paesaggio, i suoi paesaggi hanno un carattere molto particolare, impressionista sicuramente in quella che è la scelta del soggetto, ma anche espressionista per quella che è la forza cromatica che questo soggetto riesce ad imprimere, a diffondere. Anche Roberto Modenese dipinge il mare in alcuni dei suoi paesaggi. Il mare è caratterizzato da un cromatismo emozionale che è ottenuto attraverso queste pennellate molto ampie, ma fitte anche, che generano le forme. Forme che risultano quasi nascoste nel colore. Ci sono delle imbarcazioni che sono reali, ma anche fantastiche nei colori. Queste imbarcazioni che solcano le onde, si impongono quasi sulla superficie della tela come se fossero delle macchie appariscenti a contrasto che risultano quasi sospese tra il cielo e il mare. perché c'è un continuum, una sorta di fusione tra quello che è il paesaggio di sfondo e il soggetto in primo piano. Intanto, tra cielo e mare non c'è una netta divisione, non c'è un confine sottile. Tutto è molto continuato, è molto sfumato, cioè come se il cielo si immergesse nel mare e su questi cieli e su questi mari si impongono poi le figure in primo piano, i soggetti, che sono per lo più delle imbarcazioni, delle vele che solcano queste onde. ora, questi dipinti di Roberto Modenese sono fortemente materici. L'artista insiste proprio con il colore che è un colore molto denso, pesante, che lascia un'impronta decisa sulla tela. Così come decisa risulta poi la sensazione che questo colore trasmette, l'emozione che questo colore riesce a comunicare. L'aspetto emotivo, l'aspetto espressivo è sicuramente molto forte in questo artista. La materia cromatica diventa esternazione di tutte quelle sensazioni che attraversano la propria mente e che raggiungono poi la propria anima e si materializzano sulla tela. Il mare come sensazione è associato all'idea di libertà all'infinito e quindi il paesaggio marino rappresenta proprio questa voglia di confrontarsi con l'ignoto di concedersi in un certo senso all'infinito e di sfidare quindi anche il proprio destino così come le barche sfidano le onde del mare. Ora le immagini che questo artista propone sprigionano sicuramente potenza sprigionano energia ma risultano anche armoniche e poetiche se vogliamo sono immagini che colgono quella che è l'essenza più profonda delle cose e che quindi non hanno bisogno di copiare la realtà per esprimerla ma riescono a descriverla a raccontarla attraverso delle forme che sono sì realistiche ma talvolta risultano quasi più astratte risultano enigmatiche proprio perché sono espressione non tanto della forma che è legata ad una sensazione ma sono espressione del colore della luce e di quel senso di spazio che quel colore riesce a trasmettere per Roberto Modenese la pittura è sguardo e mente e quindi pur rimanendo attento e comunque legato a quella che è la tradizione della pittura di paesaggio risulta attuale risulta moderno questo suo modo di lavorare proprio perché va a cogliere l'espressività dentro di sé e a trasmetterla poi nei suoi lavori quindi Roberto Modenese riproduce la la realtà nella percezione che ha di questa realtà e la modernità sta proprio in questo cioè nella semplicità con cui riesce ad affrontare una tematica come è appunto la pittura di paesaggio che di per sé è sì semplice però è in grado di poter essere espressa in modi tanto diversi e quindi con difficoltà e anche con caratteristiche poi diverse e quindi l'artista riesce a non banalizzare il soggetto anzi ad esaltarlo proprio attraverso la forza espressiva del colore e questa è un po' la caratteristica che accomuna gli artisti di cui abbiamo parlato oggi artisti molto diversi tra loro per stile però vicini nel soggetto che trattano un soggetto che viene esaltato attraverso l'espressività del colore che può essere resa o con forza e con energia ma anche con maggiore delicatezza e maggiore armonia e può essere resa anche con assoluta spontaneità che genera però anche una certa passionalità se vogliamo è tutto per oggi a presto con nuovi punti di vista a presto